Oggi 28 ottobre 2024 sono esattamente 156 anni dalla nascita del primo vincitore di tutti i giochi olimpici moderni ovvero dello statunitense James Connolly che ai giochi olimpici di Atene del 1896 che è stata ovviamente la prima edizione olimpica moderna è riuscito a conquistare il primo posto nel salto triplo e visto che si è trattato appunto della prima gara a concludersi in questa prima giornata olimpica è stato anche il primo vincitore di tutti i giochi olimpici moderni e di tutti gli sport e dato che proprio oggi cade il suo anniversario della nascita raccontiamo la sua storia ma prima dobbiamo assolutamente capire com'era il salto triplo in quell'epoca perché sarà estremamente importante ai fini del racconto contate che il salto triplo per come lo conosciamo oggi nasce in Irlanda e pare che addirittura nasca da un antico gioco che facevano i Celti denominato Gial Ruit il che consisteva nel superare un piccolo fiume oppure uno stagno in cui erano poste due rocce, due qualcosa, qualsiasi roba che sia che emergeva dall'acqua e gli atleti dovevano superare tramite tre balzi successivi questa distanza e oltre a questo antico gioco ci sono anche parecchie leggende che in Irlanda parlano di eroi, di avventurieri che per raggiungere un luogo all'altro spesso questi due luoghi erano anche separati da uno specchio d'acqua dovevano effettuare tre balzi su delle rocce per poter raggiungere tale luogo di destinazione quindi uniamo un po' le leggende a questo antico gioco e salta fuori che in Irlanda si facevano spesso gare di salto triplo però con una tecnica particolare perché non è come adesso in cui si effettuano i primi due balzi con la stessa gamba e l'ultimo con l'altra quindi hop step con la stessa gamba e il jump con l'altra ma venivano effettuati tutti i balzi con la stessa gamba e il nome della tecnica veniva chiamata chiu hop e na jump sarà soltanto molto successivamente che entrerà in vigore la tecnica moderna prima denominata hop skip e jump e poi prendendo il nome moderno hop step e jump però non se ne scampa in Irlanda all'inizio si faceva solo e soltanto la tecnica chiu hop e na jump e per una grossa fetta dell'inizio della storia dell'atletica saranno proprio gli irlandesi e qualche scozzese a essere i dominatori incontrastati della scena mondiale del triplo anche se praticamente non esistevano gare internazionali però in genere i migliori risultati li avevano loro loro avevano inventato la specialità e loro all'inizio erano i migliori in assoluto però nella seconda metà del 1800 tantissimi irlandesi emigrarono negli Stati Uniti e da una di queste famiglie emigrate negli USA nacque James Brandon Bennett Connolly abbreviato il più delle volte in James B. Connolly nato il 28 ottobre del 1868 a Boston si scopre abbastanza presto che lui era particolarmente portato per effettuare gare di salti principalmente divenne forte nel salto in lungo e nel salto triplo e visto che risultava particolarmente bravo in questa specialità voleva partecipare ai primi giochi olimpici che si sarebbero svolti ad Atene nel 1896 però visto che lui studiava da Harvard doveva per forza di cose chiedere un permesso per assentarsi dalle lezioni perché contate siamo nel 1896 neanche hanno inventato ancora il primo aeroplano quindi per andare dagli Stati Uniti alla Grecia l'unico modo possibile è tramite nave quindi perdendo tantissimo tempo e pare effettivamente che il permesso gli sia stato negato dall'università di Harvard e quindi lui per poter partecipare poi ai giochi olimpici si è ritirato dall'università tanto era forte la sua voglia di partecipare ai giochi olimpici alla prima storica edizione moderna e quindi ecco che il nostro protagonista prende parte in nave è particolare il fatto che in uno scritto fatto dallo stesso Connoli si apprende anche come gli atleti del team statunitense anche se all'epoca non rappresentavi assolutamente la tua nazione ma rappresentavi soltanto il tuo club di atletica o l'università gli statunitensi volevano allenarsi durante il viaggio in nave però sei in nave non era una nave da crociera come quelle moderne non è che avevi la palestra avevi le attrezzature quindi semplicemente loro ogni tanto corricchiavano e facevano dei balzi con le scarpe normali in gomma sul ponte della nave quindi magari ti vedevi una quindicina di atleti che rimbalzavano da una parte all'altra della nave poi non ho ben capito il motivo ma tutte le fonti sono concordi a dire questo Connoli non andò direttamente dagli Stati Uniti fino alla Grecia in nave ma fecero tappa in Italia per prendere poi il treno verso Atene e qui entra in gioco l'Italia perché c'è un po' di Italia anche nella storia di Connoli James Connoli arrivato in Italia riceve un caloroso benvenuto da parte della popolazione di Napoli e questo caloroso benvenuto si è concretizzato nel furto del suo portafogli con tanto di furto però anche del biglietto del treno e ovviamente questo simpatico scherzetto ha fatto sì che perdesse un sacco di tempo poi fortunatamente è riuscito a riavere tutto è arrivato giusto in tempo per partecipare ai giochi olimpici però con quasi due settimane di ritardo lui voleva arrivare a avere una decina di giorni due settimane per fare gli ultimi allenamenti prima di partecipare alla gara e invece è arrivato nella notte precedente alla competizione però ecco che arriva un altro problema all'interno della competizione James Connoli però era cresciuto negli Stati Uniti e anche se all'inizio della sua carriera utilizzava la tecnica ormai per lui era usanza comune usare la tecnica hop step jump ovvero la tecnica attuale tuttavia in Europa la maggior parte degli atleti utilizzava ancora la tecnica cioè quella delle origini di Connoli ovvero quella degli irlandesi e durante la competizione gli atleti greci hanno visto questo americano che utilizzava una tecnica diversa dalla loro e quindi gli si sono avvicinati gli hanno detto guarda che la tua tecnica quella in cui fai i primi due balzi con la stessa gamba e poi cambi gamba è una tecnica corrotta e scorretta non è quella degli antichi giochi olimpici che utilizzavano i nostri avi e James Connoli si trova così ad aver impostato la gara con una tecnica però si lascia convincere da questi atleti greci dice vabbè è casa loro sapranno loro qual è la tecnica giusta ed ecco che Connoli effettua la gara facendo two hop e una jump tutti e tre i balzi con la stessa gamba e poi ancora c'era un'altra particolarità ancora di questa competizione perché Connoli arriva dagli Stati Uniti dove era consuetudine dire all'atleta la misura che era riuscito a effettuare durante la prova mentre in Europa c'era un'altra consuetudine un altro regolamento cioè che gli atleti dei salti in estensione non gli veniva minimamente detta la propria misura per tutto l'arco della gara cioè l'atleta conosceva la sua misura di salto e la sua posizione in classifica solo e soltanto a gara conclusa però nonostante queste due difficoltà James Connoli riesce a saltare 13,71 m addirittura 1,01 m di più del secondo classificato ovvero il francese Alexandre Tuferi che era atterrato appunto a 12,70 m che così per curiosità è quello che attualmente è il minimo di partecipazione ai campionati italiani cadetti in Italia e grazie a questa misura James Connoli dopo oltre 2000 anni dall'ultimo campione olimpico diventa il primo campione olimpico di tutta l'atletica moderna e dei giochi olimpici moderni in generale però non dimentichiamoci che siamo nel 1896 quindi gli atleti spesso e volentieri partecipavano a più gare possibili tant'è che James Connoli arrivò anche terzo nel salto in lungo con la misura di 6,11 m che per l'epoca non era assolutamente una grande prestazione considerate che in giro per il mondo c'erano già atleti che superavano i 7 metri però la pista di Atene faceva particolarmente ribrezzo poiché era con fondo in genere nei giorni precedenti alle competizioni aveva piovuto quindi era veramente pessima dal punto di vista prestativo poi per non farsi mancare proprio nulla James Connoli partecipa anche al salto in alto e nell'alto riesce a superare la misura di 1,65 m misura non stratosferica neanche questa perché considerate che all'epoca il miglior risultato mai registrato era 1,95 m e addirittura la prima misura di ingresso nei giochi olimpici di Atene nel 1896 è stata 1,50 m quindi fa ben capire il livello stratosferico di questa edizione in teoria ai giorni nostri diremmo che Connoli torna quindi dai giochi olimpici di Atene con 3 medaglie al collo quando in realtà non è così perché in questa prima edizione veniva premiato solo e soltanto il primo classificato con una medaglia che tra l'altro non era neanche una medaglia d'oro ma una medaglia d'argento quindi diciamo che le 3 medaglie le ha conquistate solo e soltanto se vediamo i giochi olimpici del 1896 con l'ottica di uno spettatore del 2024 ai giochi olimpici di Parigi del 1900 James Connoli può finalmente utilizzare la sua tecnica consueta ovvero hop, step e jump dove però non riesce a confermarsi campione olimpico arrivando al secondo posto con la misura di 13,97 m dietro al connazionale Meyer-Prinstein che fa un 14,47 m poi ai giochi olimpici di Parigi c'era un'altra curiosità particolare ovvero l'introduzione dei salti da fermo cioè lungo, triplo e alto da fermo e purtroppo James Connoli era sì iscritto alla gara di triplo da fermo ma poi non vi ha partecipato non si sa per quale motivo e poi banalmente si ferma già qui la carriera di James Connoli poi avrà ancora molto a che fare con lo sport diventerà giornalista sportivo scriverà diversi racconti non di atletica in realtà neanche di sport ma molti sulla marina sulle avventure per nave diciamo però secondo me rimane comunque una storia incredibilmente affascinante anche se molto breve cioè se ci pensate lui ha le origini nell'Irlanda nel casa natale del salto triplo all'inizio usa la tecnica irlandese ma poi la cambia e utilizza quella moderna ma ai primi giochi olimpici che partecipa si convince a utilizzare la tecnica dei suoi avi vince con quella tecnica nel mentre viene anche rapinato a Napoli e poi ai secondi giochi olimpici dove può utilizzare finalmente la sua tecnica arriva secondo ed era bello secondo me raccontarvi questa storia proprio nel giorno della sua nascita con un 156 anni di ritardo poi magari non ne avete idea ma nella storia del salto triplo si incrociano tante di quelle storie avvincenti e bellissime che potrei parlarne all'infinito anche perché la mia tesi di laurea è stata sulla storia del triplo ci ho già fatto un video di un'ora sulla storia del triplo su questo canale ma di sicuro in futuro arriveranno altri video specifici su determinate parti della storia del triplo spero che questo video sia stato interessante come è stato interessante per me scoprire tutta la vicenda di James Connolly vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto di abbonarvi al canale se volete supportare attivamente pillole di atletica così che posso andare avanti a fare questa roba e come al solito grazie mille per essere arrivati fino qua quindi non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare ciao ciao